Il 31 ottobre qui presso l'acquare multimediale di Diamante si terrà la terza edizione di Halloween al Museo, dove avremo una mostra fotografica curata da me e dal naturalista Luigi Cipresso e una mostra terraristica, quindi di animali in carne ed ossa, curata dal terrarista Edmondo Costa. Dalle 15 alle 19 vi aspettiamo quindi qui all'interno del parco naturale Enzo La Valva e precisamente all'interno dell'acquare multimediale di Diamante. Oltre alla mostra fotografica e terraristica, noi illustreremo e vi spiegheremo curiosità e anche fatti riguardanti il mondo della fotografia naturalistica, soprattutto per quello che interessa agli animali più pericolosi, diciamo per modo di dire, perché poi in realtà sono abbastanza mansueti anche quelli velenosi o tossici, come ad esempio vi mostriamo come approcciarsi animali come vipere, ragni velenosi come la vedova nera. Come si possono allevare alcuni di questi animali naturalmente comprati esotici e non nella zona, come si possono allevare grazie all'aiuto di Edmondo Costa. Poi avremo dei filmati a tema Halloween come ogni anno nel nostro Cinema 6D, che è l'unico in Calabria oltretutto. Tutti i touch del museo sono a disposizione della clientela, con fatti storici su Diamante, sull'isola di Cirella, sulla Cirella Antica e sulla pre-storia con l'esposizione di veri minerali fossili. Grazie per la visione!